Il primo tempo Bomoné e All Blacks, hai ristratto che venivano i vantaggi di All Blacks per due reti a zero. Che mi dici di questo primo tempo? Una partita molto combattuta, abbiamo preso due palloni con un po' di mancanza difensiva, però c'è un secondo tempo avanti che possiamo migliorare ancora. Cosa potete migliorare soprattutto nel secondo tempo? Di tirare un po' di più in porta e di essere un po' più compatto in difesa. Va benissimo, in bocca al lupo. Fine primo tempo che mi vede in vantaggio di due reti a zero, starò giocando abbastanza bene, cosa mi dici? Una buona partita, sono ritmi un po' bassi dopo un po' di sosta. Abbiamo un buon vantaggio, speriamo di chiudere. Cosa potete migliorare nel secondo tempo rispetto al primo? Finalizzate. Va benissimo, in bocca al lupo. Buonasera a tutti dall'S Cup, stiamo qui con i protagonisti delle due squadre che hanno giocato questa sera, All Blacks alla mia sinistra, i vincitori questa sera e Bon Modena Club, il portiere. Cominciamo a parlare con il portiere, la squadra che è riuscita sconfitta da questa gara. È stata una partita molto scialba, abbiamo visto ritmi molto bassi in campo, tu hai fatto dei miracoli, avrebbe finito a 20 a 1. Hai fatto davvero delle parate assurde, complimenti innanzitutto anche da parte dell'S Cup. Cos'è mancato al Blue Cup? È mancato l'entrata in campo già dal primo minuto. Non siamo entrati con la testa giusta, un primo tempo un 2-0 non stava bene, però purtroppo siamo andati sotto di quei cinque gol e hanno vinto gli All Blacks meritata molto. Ho notato molti, molti falli, soprattutto a ridosso della rigura. No, eravamo scarichi. Ho pensato a mettere la barriera, a cercare di capire... Eravamo scarichi, non c'era proprio la difesa questa sera, però quel poco che ha potuto dare ha dato questo risultato. Perfetto, cosa ti aspetti da questo campionato? Speriamo solamente in un miglioramento della nostra squadra. Puoi recuperare qualche giocatore, manca qualcuno? Sicuramente mancavano molte assenze stasera, tre o quattro giocatori che erano importanti per noi. E purtroppo per giocarla ci siamo meritati questa qua. Vabbè, questo è un'importante. Comunque grazie mille da parte dell'SK, complimenti ancora. Passiamo ai All Blacks, la squadra che questa sera ha vinto, è stata, avete passeggiato. Il 6-1 risultato è abbastanza largo, complimenti innanzitutto anche dall'SK. Ho visto una fase difensiva leggermente sfasata, nonostante il 6-1. Ho visto delle incomprensioni dietro. Molto meglio il centrocampo e l'attacco, complimenti per le disegnate. Cosa pensi di questa cosa che ho detto? Penso che per me la squadra ha girato bene, ha girato. Un po' di concentrazione in più in difesa, però per il resto... Perché voi avete una partita sotto controllo per tutta la gara, però alcune volte andavano al tiro molto facilmente gli avversari. Eravate un po' molle, diciamo, sulla... Un po' scarico, un po' sta... E sei ancora stanco che ti vedo provato da questa... Anche se questa è l'ennissima medaglia che prendi in questo... Sì, sì, sì. Complimenti, allora ti premio. Un attimo che ti trovo la medaglia. Questa è la medaglia del migliore in campo, complimenti ancora. A chi l'ha di chi questa, Vittorio? A tutta la squadra. A tutta la squadra. Complimenti dall'SK, grazie mille, a presto. Alla prossima è tutto, ciao. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!